me stesso jerry the dog vi lascio con quest'ultimo brano che è un pezzo di un gruppo italianissimo indie rock di quando ero giovane sono stato giovane anch'io si chiamano yuppie flu il pezzo si chiama food for the ends una bella limonata this day's always pre-making pretty much around close their eyes shake the little antennas and since my past and present don't wind it around summer hell in all the air clearing by the lunch bar we're getting dry and there are my worst growing things widely on the garris court we're getting dry in times of dance degree dark and blue we have sharp strings progress it's all around open your eyes it's no work with nature and life is taken for granted it's no work with nature 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro, effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale, a privati, imprese e denti pubblici, a sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento, numero 1, e a Salerno, in Via Francesco Manzo, numero 11. Telefono e fax 0827 74080 Mobile 347 4238 203 NMC Ecosider, azienda con esperienza decennale, si occupa della raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti non pericolosi, per conto proprio e per conto terzi. NMC Ecosider ti offre inoltre un impianto di recupero per rifiuti speciali non pericolosi, recupero e trattamento dei rottami, autodemolizioni. Siamo a Flumeri, presso la zona industriale Valle Ufita. Per info, chiama allo 0825 44 3677 oppure visita il sito www.nmcecosider.it ma puoi seguirci anche su Facebook NMC Ecosider, professionalità e profondo amore per la nostra Irpinia. CRT, la tua radio. Pubblicità A Grotta Minarda, un servizio esclusivo per rendere il tuo viaggio libero dai pensieri e al massimo del comfort. LB Rent, autonoleggio breve, medio e lungo termine, a tua disposizione per rispondere ad ogni tua esigenza. Ampio parco veicoli per ogni tipologia di richiesta, dalla utilitaria alla supercar, da veicoli commerciali a veicoli nove posti. LB Rent è anche noleggio auto da cerimonia, per rendere il tuo giorno ancora più speciale. Da LB Rent troverai sempre veicoli di nuova costruzione, rispondenti a tutte le normative vigenti in materia. Per guidare senza pensieri, scegli LB Rent, con trada Toppolo 58, Grotta Minarda, Avellino. Contatti direzione 345 29 66 189. Contatti commerciali 333 15 12 230. Segui LB Rent anche su Facebook e Instagram. Amelito Irpino, una realtà consolidata, matullo, trattoria, pizzeria, cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano, specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni. Pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione, menu per intolleranze e alimentari su richiesta. Un indirizzo affidabile e di fiducia, dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo, trattoria, pizzeria e in via Libertà 12 a Amelito Irpino, Avellino. Per il rinfo e prenotazioni 0825 47 2019 oppure 368 6075 32. Chiusura il martedì. La musica Cara, stavo pensando, per il nostro anniversario vorrei portarti in posti meravigliosi, che possano eguagliare la tua bellezza, visitare luoghi nuovi e viaggiare in lungo e in largo una seconda luna di miele. Tesoro, insomma, ma non abbiamo un piano B. L'idea di affrontare tanti chilometri con te alla guida mi lascia un tantino perplessa. Piuttosto avrei un'alternativa molto valida. Lorusso Viaggi, leader nel settore, offre vaste soluzioni, colline urbane, interurbane, nazionali ed estere. La tua è un'idea fantastica, anche perché lo sapevi che un bus è sicuro 40 volte più di un'auto? Possiamo viaggiare comodi e senza problemi. Lorusso Viaggi ha un parco mezzi tutto nuovo e di ultima generazione e a bordo troverai tanti comfort, wifi, personale qualificato e in più è un'azienda certificata ISO. Ma dove ci può portare Lorusso Viaggi? Ma ovunque noi vogliamo. Possiamo scegliere tra linee mare, viaggi di piacere, eventi come concerti, partite di calcio. Pensa, anche gite scolastiche per la scuola dei nostri bambini. Allora non mi resta che dare una sbirciata su Facebook e Instagram per scoprire tutte le tratte di Lorusso Viaggi e preparare i bagagli. Lorusso Viaggi a Melito Erpino alla via provinciale 6A. Per info e contatti chiama il 339 699 2284 o visita le pagine Facebook e Instagram. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. Dieci passaggi giornalieri. Possibilità di cambiare lo spot tre volte in un anno. Pagina dedicata sul nostro sito internet. Realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social. Passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio. Formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario. 6 mesi euro 200. 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti. Edi De Michele 339 4560 657. Antonio Perna al 329 3531717. Davide Iannuzio al 380 31 15430. Oppure al 328 88 12 506. CRT Radio. È tutta un'altra musica. State ascoltando CRT. Il programma è offerto da... Alla macelleria di Milena di Flumeri a Melito Irpino ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato. Con carni pregiate di prima scelta e certificate, ma anche cortesie e disponibilità. Qualunque sia il tuo menù, prima di metterti ai fornelli, passa da Milena e troverai genuinità e ricercata qualità. Macelleria da Milena. Dove la qualità fa la differenza. Ci trovi a Melito Irpino alla via Indipendenza. Per info e prenotazioni chiama il 333 9541112. Macelleria da Milena. E a tavola il successo è assicurato! A Grotta Minarda, alla via Condutiello 25, c'è una sosta a cui non puoi rinunciare. È il Bar Terminal 9.2. È il Bar Bus, caffetteria, paninoteca, aperitivi. In un ampio spazio esterno ed un meraviglioso parco degli olivi come Privé ed Area Bimbi, organizza eventi e feste private su prenotazione. Il Bar Terminal 9.2 ricarica te e la tua auto elettrica. Il giorno di chiusura è il martedì, ma lo trovi anche su Facebook e Instagram. Per informazioni chiama il 339 87 64 010. Bar Terminal 9.2. Il bus che non devi perdere mai. Il programma musicale che ti regala ogni volta un viaggio sulla macchina del tempo per rivivere attraverso la musica la storia del nostro passato, gli eventi culturali e attualità. Racconteremo nozioni e ricordi legati ad ogni canzone. E tu? Sei pronto a liberare le canzoni che ti porti nel cuore? Mi ricordo quando. Un programma ideato e condotto da Edide Michele. Ben tornati, siamo qui dalla nostra casetta nel bosco. Io sono Edie e siamo da Radio CRT con la decima puntata di Mi ricordo quando. Non mi resta che dirvi bentornati. Non ci vediamo da tanto tanto tempo, anche se ultimamente ci siamo un po' intravisti in tante esterne che abbiamo condotto durante il periodo di Natale, ma oggi avevamo bisogno di ritornare qui in questa piccola casetta appunto dove nascono tanti progetti, come quello più importante che stiamo portando avanti per il nostro piccolo guerriero Ascanio che salutiamo con un caldo bacino da parte di tutti noi e colgo l'occasione per ringraziarvi veramente calorosamente per la dimostrazione di affetto e di partecipazione nella nostra iniziativa. Siamo a un tanto così dal raggiungimento di un traguardo importante e tutto questo è stato possibile solo grazie a voi, alle associazioni che ci hanno accompagnato, ai privati, agli enti, a tutti, tutti voi. Avete dimostrato ancora una volta quanto è grande il cuore della nostra Irpinia. Grazie, grazie mille. Bene, dall'esterne oggi avevamo bisogno di accendere nuovamente il nostro motore e partire con la nostra macchina del tempo per cominciare un altro viaggio, precisamente il decimo. Oggi è 16 gennaio e dobbiamo fare gli auguri a lei, una grande donna, la regina della precisione e del minimalismo. Ha avuto anche un passato come modella perché si deve dire che è una donna bellissima, è stata anche stilista. La sua voce ha fatto da colonna sonora a tanti momenti romantici, anche un po' sensuali, si può dire. Siamo in fascia protetta, beh, ma siamo modici. È arrivata al successo nel 1984 con l'album Diamond Life. Facciamo gli auguri a Sade e vi lancio un brano del 2000, una canzone d'amore e di sostegno che recita così. Quando avrai freddo, ci sarò. Ti terrò stretto a me. Quando sarai fuori, amore, e non potrai entrare, ti mostrerò che sei migliore di quanto pensi. Sade con By Your Side. Ciao.